Era una tranquilla notte a Copenhagen quando Anna, un'anziana signora del posto, uscì per la sua tradizionale passeggiata serale. Come ogni sera, il suo cammino la portò vicino al porticciolo dei canali, dove poteva ammirare la famosa statua della sirenetta. Anna adorava quella piccola statua di bronzo, considerata un simbolo della città. Le piaceva osservarla seduta sulla sua roccia, con lo sguardo rivolto verso il mare aperto. Era lì da oltre un secolo, immobile ma piena di poesia. Quella notte però, quando Anna arrivò al porticciolo, si rese conto che qualcosa non andava. La roccia dove sorgeva la sirenetta era incredibilmente vuota. La statua non c'era più. Allarmata, la signora si avvicinò di più, sperando fosse solo un gioco di luci e ombre. Ma non c'erano dubbi, la preziosa opera d'arte era stata rubata o forse addirittura distrutta. Anna rimase a bocca aperta, sotto shock. Rapidamente, alcune altre persone si accorsero del furto e la notizia iniziò a diffondersi per la città. Presto la polizia arrivò sulla scena, iniziando le indagini preliminari. Cosa era successo alla sirenetta di Copenaghen? Gli agenti capirono subito che il caso era troppo grande per loro. Avrebbero avuto bisogno di aiuto da parte di un detective esperto per risolvere questo mistero e ritrovare la preziosa statua rubata. Il detective italiano Marco Bianchi era nel suo ufficio a Roma quando squillò il telefono. Era una chiamata dall'estero. Pronto, detective Bianchi, disse una voce con un forte accento danese. Sono il commissario Jensen della polizia di Copenaghen. Abbiamo un caso di massima urgenza e abbiamo bisogno del suo aiuto e continuò l'uomo. Marco si drizzò sulla sedia, in ascolto. Il commissario spiegò che la famosa statua della sirenetta era stata rubata nella notte a Copenaghen. È un simbolo importantissimo per la nostra città. Dobbiamo assolutamente ritrovarla, disse con tono preoccupato. Marco aveva già sentito parlare di quel monumento iconico. Sapeva che si trattava di un caso delicato che richiedeva grande abilità investigativa. Sarò a Copenaghen il prima possibile, rispose deciso. Poche ore dopo, il detective italiano era già su un aereo diretto in Danimarca. Durante il volo, studiò attentamente il fascicolo con le informazioni sul furto. Aveva una vaga idea di dove iniziare a indagare. Atterrato a Copenaghen, Marco fu accolto dal commissario Jensen e dalla sua squadra. Siamo molto grati che sia venuto ad aiutarci, disse il poliziotto danese, stringendogli la mano. Le indagini per ritrovare la sirenetta stavano per cominciare. Marco non perse tempo e iniziò. subito a indagare sul furto della sirenetta. Insieme agli agenti danesi, esaminò attentamente la scena del crimine nei pressi del porticciolo. Cercarono impronte, tracce di forzature o qualsiasi indizio utile. Purtroppo non trovarono granché. I ladri sembravano essere stati molto abili nel non lasciare tracce. Marco iniziò a sospettare che il furto fosse opera di professionisti, non semplici vandali. Il detective intervistò poi alcuni testimoni che erano stati nella zona quella notte. Una cameriera del ristorante vicino raccontò di aver sentito dei rumori sospetti, ma non aveva visto nulla di concreto. Marco decise di esplorare altri luoghi di Copenaghen che potevano essere collegati al crimine. Visitò mercati di antiquari e negozi di souvenir, dove la preziosa statua avrebbe potuto essere rivenduta. Ma non trovò nessuna pista concreta. Frustrato, il detective italiano si concentrò sullo studio dei precedenti furti d'arte avvenuti in città. Notò alcune somiglianze con un corpo misterioso anni prima, quando un dipinto antico era sparito da un museo. Forse c'era un collegamento? Marco decise di intervistare l'ex detective che aveva lavorato a quel vecchio caso nella speranza di trovare qualche indizio utile. Non si arrendeva, determinato a scoprire cosa era realmente accaduto alla sirenetta. Durante le indagini, Marco iniziò a sospettare che qualcuno stesse cercando di ostacolarlo. Alcune delle sue mosse investigative sembravano essere state anticipate dai ladri di la sirenetta. Un giorno, mentre usciva da un bar dove aveva interrogato un informatore, il detective notò una figura sospetta che lo seguiva. Marco si girò di scatto, ma la persona misteriosa era già scomparsa nel vicolo. C'è qualcuno che non vuole che risolva questo caso, pensò Marco preoccupato. Avrebbe dovuto essere più cauto d'ora in poi. Pochi giorni dopo, mentre controllava la sua camera d'albergo, il detective trovò un inquietante messaggio scritto, smetti di cercare o la pagherai cara. Era una chiara minaccia. Marco capì che i ladri di la sirenetta erano pericolosi criminali disposti a tutto pur di non essere scoperti. Forse aveva toccato tasti dolenti legati al giro dell'arte rubata. Nonostante le intimidazioni, il detective italiano non aveva intenzione di arrendersi. Era più determinato che mai a risolvere il mistero e assicurare i colpevoli alla giustizia. Ma doveva stare molto attento a non cadere in qualche trappola mortale. Nonostante le minacce, Marco continuò ostinatamente le indagini. Studiando i vecchi casi di furti d'arte, scoprì alcuni dettagli insoliti che sembravano collegarli al furto della sirenetta. In particolare, un ex sospettato di quei crimini era un certo Soren Eriksen, un trafficante d'arte con un passato criminale. Marco decise di indagare meglio su quell'uomo. Con l'aiuto della polizia danese, il detective riuscì a rintracciare il nascondiglio segreto di Eriksen in un vecchio magazzino abbandonato. Quando vi si recarono, trovarono indizi che confermavano il suo coinvolgimento nel furto. C'erano schizzi dettagliati della sirenetta e appunti su come imbarcarla su una nave. Inoltre, Marco trovò un biglietto aereo intestato a Eriksen per la Grecia, dove probabilmente intendeva rivendere la statua. Lo abbiamo quasi preso, esultò il commissario Jensen. Marco annui, ma sapeva che il passo successivo sarebbe stato il più pericoloso, trovare il covo di Eriksen e la sirenetta stessa. Grazie alle informazioni raccolte, il detective italiano riuscì a rintracciare un vecchio capannone isolato nei soborghi di Copenhagen. Tutto faceva pensare che lì si nascondesse Eriksen con il suo prezioso bottino. Marco e la squadra della polizia danese si prepararono per l'operazione di cattura in quel vecchio capannone isolato. Sapevano che Eriksen poteva essere pericoloso, quindi presero tutte le precauzioni necessarie. Una notte, circondarono silenziosamente l'area. Marco diede il segnale e gli agenti fecero irruzione nel capannone da diverse entrate. Eriksen e alcuni suoi scagnozzi tentarono di opporre resistenza aprendo il fuoco. Ne scoppiò una violenta sparatoria. Marco rimase quasi ferito da un proiettile vagante, ma riuscì a mettersi al riparo. Alla fine, grazie alla superiorità numerica, la polizia ebbe la meglio sui criminali. Eriksen venne ammanettato e portato fuori dal capannone. Dove è la sirenetta? Parla o è finita per te, gli intimò Marco puntandogli una pistola. Il trafficante d'arte indicò un angolo buio del capannone con aria rassegnata. Lì, meravigliosamente illesa, c'era la famosa statua di bronzo. Gli agenti la caricarono con cura su un furgone per riportarla finalmente a casa a Copenhagen. Marco tirò un sospiro di sollievo. Ce l'aveva fatta. Nei giorni successivi, la sirenetta venne ricollocata nella sua posizione originale nel porticciolo, tra la gioia dei cittadini danesi. Marco assistette orgoglioso alla cerimonia prima di tornare a Roma. Il caso era stato risolto grazie al suo duro lavoro e coraggio. Chissà quali altre sfide emozionanti lo attendevano in futuro. Grazie. 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 Grazie.